123 stella attesa mossa elena stelle la nostra amica di oggi che ridere e chissà perché ridano capisco lena non dire paraccia in appena finito di dire 150 parolacce tra le peggiori io le orecchie che sanguinano adesso ti connetti più profondamente a stella che è la sua seconda sessione 5 4 3 2 1 come la vedi sì allora e lei arriva con i suoi due figli e praticamente è come se quello che mi fa vedere che lei deve essere sicura che loro sono sistemati dove dice lei quindi mette uno da una parte e l'altra dall'altra e sono messi lì come belli vuole vedere così è tranquilla e dopo così può andare avanti ok li vuole mettere nel cinema sì va bene come la vedi viene da dire sull'attenti nel senso attenta a tutti a tutto quello che succede intorno al minimo movimento alla minimo è come se fosse allerta di qualsiasi movimento e suono e ti dà l'autorizzazione stella sì va bene è la sua seconda sessione non è neanche avvenuto tanto tempo fa la prima facciamo questo approfondito controllo vibrazione 27 miliardi percentuale di consapevolezza 158 ps 53 vite precedenti 971 cervello 9.5 9.5 pieni voti non c'è niente che va male va benissimo ottima vibrazione media infatti lei non ha dei veri punti non c'è nulla che non vada se non la fisica ottime vite ottime ottime 971 si è benissimo sotto il 1000 va benissimo promossa prima della classe psp e perfette novembre direi che quello che hai detto è proprio il suo blocco il suo limite prima della classe si alla sindrome da prima della classe no nel senso che per lei deve essere sempre tutto che vada come secondo il suo parametro di perfezione perché sennò è come se perdesse il controllo come se si sentisse in pericolo ok ci sono entità eteriche allora attaccate no c'è in agguato tra virgolette c'è in agguato un leone niente quindi no no perché in agguato ce l'hai anche tu ce l'ho anche io certo farmo direi che è l'unico fisso posso dire che in agguato ecco è come se avessero scelto il leone a star lì pronto a accogliere la prima occasione per interferirla di nuovo sicuramente ognuno di noi ha la sua figura stella ha capito che è il capo in eterico direi decisamente sì ok quindi del leone ce ne sbattiamo entità mentali sono tornate nessuna idea di quali fossero all'inizio neanche ce ne c'è c'è sì livello 1 abbondante c'è come se fosse tra 1 e 2 sì se vogliamo dargli un livello però ecco per l'altro giorno pensavo che non abbiamo quasi mai trovato una entità mentale di livello 1 eccolo qua insomma è proprio così esatto sì ed è proprio questa sua inconscia tendenza a avere tutto sotto controllo ecco la perfezionista sì che poi così male non fanno alla fine a me non ci mette un po di cura se se non diventa troppo ossessionante ecco sì sì assolutamente però è un 1 sì infatti se rimane così che 8 no no faccio quelli che devono fare una consegna e non consegnano mai perché potrebbe essere meglio fatto consegna di un lavoro in digitale di una fornitura di pane e quindi lì perde la commessa se è lavorato per niente scusa quella tizia che mi è venuta in sogno quindi chi è cioè cosa è successo si può dire passi senza dire nome ovviamente sì esatto allora lei ha raggiunto dei gradi un grado abbastanza alto di diciamo carriera sì di quelli che stanno nell'ombra lei può dirigere tante persone ok a tutta una squadra sotto di lei e il suo scopo è proprio legare a loro più persone possibili che potrebbero sfuggire facilmente perché è esatto esatto di prenderle con un altro meccanismo e che vuole da me cercare di agganciare anche te sì bello va bene impianti di stella e te ricci nessuno è come se avessero abbossato all'inserimento di un piano di un impianto mentale che è fatto da c'è tipo una sferetta al centro che fa da fulcro e due bacchettine che vanno verso l'esterno non c'è l'impianto ancora ma è come se attraverso l'entità mentale che si è agganciata avessero progettato il futuro programma su stella c'è una predisposizione se c'è un ombra di un piano esatto formato perché un'entità mentale 1 c'è un campo arato ma il seme non ancora esatto va bene causa esoterica di tutti i problemi dei denti legati ai denti e anche correlazione con il turcicollo impianti dentali che si ritirano anche sugli impianti allora diciamo che è il suo turcicollo e mano sinistra formicoli o sì ma ci arrivavano sì allora diciamo che nella sua idea di perfezione in alcune cose come se quello che fa non è mai perfetto c'è il momento quando lo fa e arriva alla fine del suo progetto è perfetto quando arriva alla fine poi non è più perfetto e quindi deve trovare qualcos'altro per quanto riguarda la casa che parlava di traslochi è proprio questa cosa che è come se lei non riuscisse mai ad afferrare la sua perfezione ecco mi viene da dire così e la casa è una cosa molto importante il posto dove uno si sente bene quindi con i vari traslochi di cui diceva è proprio indice profondo di questa cosa si il terci collo lo vedo più invece come più che legato ai denti è la sua allora quando vedo proprio che quando lei si rilassa c'è quindi fa magari mette dei lunghi periodi di attenzione e di spreco di energie su una cosa che per lei è fondamentale soprattutto per quanto riguarda la sua famiglia anche il marito ma in particolare i figli ok quando lei secondo lei ha raggiunto l'obiettivo soprattutto direi educativo dei suoi figli secondo i suoi parametri allora a quel punto è come se lei si rilassasse e in quel momento lì assente in particolar modo i muscoli cervicali viene più a sì c'è a sinistra direi che è proprio legato ai figli la discendenza se questo è il formico lio come collega e la cervicale tutti i denti li vedo legati proprio a non riuscire a afferrare concretamente la sua perfezione e in particolar modo ha molto significato per lei la sua casa la casa che per lei deve essere perfetta la deve sentire perfetta per sé e questo non riesce mai a raggiungerlo in parte perché non vive da sola quindi non sarà mai perfetto esatto il gioco di un bambino le cose di un bambino di un figlio già non sono perfette perché non parliamo del marito compagno anche stanca alla mattina e dopo pranzo e cena posto pandiale allora è come se ci fosse una remine vedo questa cosa qua è come se nel momento in cui a questo meccanismo che vedo antico però potrebbe essere la reminescenza di un'altra vita ok mi è venuta proprio questa immagine qua e quando lei mangia come se abbassasse l'energia del suo corpo ok e le viene portata via l'energia vedo un tubicino che esce e danno e nulla e quindi si prendono l'energia da lì ma è una cosa legata a un'altra vita quindi c'è come se per andare a cercare quell'interferenza dobbiamo andare in un'altra vita andiamoci è un po c'è qua appare buia andiamo con la vita se era un ost e maschio in un paese tira il nord america mi viene da dire far west senti quei tipici locali che appaiono più o meno si non erano proprio così come nei film ma lo vedo c'è questa osteria fatta tutta in legno ok e lei era l'oste e vedevo che vedo proprio che l'è andata male con gli anni sempre di più la vita perché mentre mangia aveva il vizio di bere e lo vedo sempre con col bicchiere in mano e quando c'erano i pasti era molto obeso e quando c'erano i pasti mangiava e beveva e si attormentava e questo faceva sì questo ha fatto sì che ha perso il controllo della sua vita nella sua professione di tutto e quindi dato tutto a rotoli se ok può essere anche collegato al tipo di alimentazione di stella io per esempio so che in alcuni casi e non sempre un grosso consumo di carne porta a questo porta alla stanchezza sia mattutina che soprattutto posto pandri brandiale io sono uno di questi mi sono giusto vegetariano da quel momento in poi da un 0 tutto così anche tu sei vegetariana io no no le ha infatti ne vedevo più a livello di carboidrati nel suo caso ma legato la c'è potrei dire più più nello specifico ma strano ma tipo la pasta meno ma proprio il pane pane e patate perché è legato la è legato a quella vita lì lievito amido e si va bene questa dell'oste è una delle 971 di sé come vedi stella quando vede una sua vita parallela è come se avesse che strana questa cosa bella questa domanda è come se proiettasse la sua vita parallela all'esterno in maniera tale che la vede lei e la vedono gli altri come dire come se partisse un uno schermo a ologramma olografico ok proprio dai suoi occhi da qua da questa zona partisse proprio questo schermo ok non si allarga una certa larghezza un'ampiezza consistente e c'è tutta la vita scorre tutta la vita proprio che vive cioè si vede proprio il movimento tutto ci sono delle vite in centro america più che sud america centro america lingua spagnola prima mentre parlava mi è venuto maccio piccio però mentre parlava l'ho vista sul maccio piccio ma andiamo con la vita lì è particolare questa cosa perché lei era potrei dire sciamano costruttore però c'è sciamano che però come professione faceva costruttore ma faceva la telecinesi allora mi fa vedere questa scena che si spostano i mattoni mattoni le pietre scusa le pietre vedo questi muri che si lei col pensiero mette le pietre una sopra l'altra e poi con gli occhi ma se facesse un laser e le unisse insieme come se mettesse un cemento che non c'è quindi le teorie secondo cui completiste secondo cui sono state costruite queste strutture a migliaia di metri d'altezza con pietre che si trovano altrove con incastri impossibili da realizzare oggi che abbiamo il laser abbiamo laser abbiamo gli elicotteri abbiamo i camion sono appunto con il suono utilizzate sono state realizzate con l'utilizzo di tecnologie che si basano sul suono la levitazione legata al suo ok lei è una di queste donne uomini essere umano essere un uomo come si chiama banto umani cosa vuol dire raggi di luna ok basta paradossalmente ma c'è più che beh è in perù comunque non è nei paesi che lei ha visitato non è nei paesi che lei ha visitato da dove viene questo amore questa grande attrazione sia per la lingua che per la zona caraibica caribe allora c'è questa vita che è stata una delle vite più serene e facili potrei dire di stella la vedo allora facciamo un lavoro dove cerco di capire che lavoro era perché la vedo con questi campi di terra ok e però in questi enormi pentoloni dove mischia acqua e terra e continua a girare capire potrebbe essere terracozzi magari e cosa fa potrebbe sì secondo me lavorava in un posto dove producevano mattoni presumo di mattoni tipici loro perché vedo che mischia proprio lei era detta mischiare l'acqua e la terra quindi probabilmente faceva non so a terracotta l'argilla per fare mattoni terra marroncina quindi secondo me poi se terracotta ma la vedevo molto è un lavoro molto semplice dove lavorava tanto fisicamente ma era molto serena era molto serena e in pace con se stessa ha avuto una dei genitori che si sono amati vedo in quella vita quindi profondamente quindi erano molto uniti sereni nonostante le difficoltà della vita e secondo me era in martinica mi viene da dire e poi li ha incontrato l'amore della sua vita lì che era un'anima un'anima gemella di quinto livello che che potrebbe essere la potenziale fiamma di questa vita è il marito di adesso l'attuale sto confrontando mi viene da dire nel senso che si nel senso che io lo vedo di fianco a lei lo vedo già di fianco a lei da tanto ma potrebbe non diventare fiamma non è chiaro ma non è mai così chiaro no volendo potrebbe stella in questo momento è più orientata a un anno fatti probabilmente per quello secondo me che è molto vicini ma tendenti alla allontanarsi non avvicinarsi perfatti sì verso il filo verso fino a non so che cosa stavo dicendo il marito che della fiamma che non è mai certo nel senso esiste questa fiamma punto 1 allora ce n'è un'altra potenziale allora come avevamo già visto come vedo sempre di solito quando mi focalizzo su questa cosa più uno diciamo consapevole e centrato su come vorrebbe l'altra persona tra virgolette erano in generale caratteristiche fondamentali dell'altra persona più le sia il numero di sciame potenziali diminuisce ok in questo momento ce ne sono due è che una è il marito e una è un'altra persona dove è costa azzurra più vicino al confine con l'italia italiano francese italiano ok ma allora il discorso fiamme è molto complesso hanno anche scritto di noi dire c'è stato anche se non è letto non è letto ma non ha fatto in tempo visto solo il titolo ma non è molto complesso non ci sono indicazioni regole il concetto di base questo stella ti interessa questa esperienza totalizzante è difficile e complicata in questa vita ci sarà non di comprezzo ci sarà un lavoro sarà un prezzo non c'è stato un tratto uso una centratura non basta andare da una elena a chiedere se alto 180 182 o 179 e dove sta anche l'indicazione della costa azzurra temporanea niente è un mescolone è un carosello continuo se tu vuoi avere la fiamma vicino di casa lo hai ma ci vuole una capacità di creazione di centratura di convinzione di di abbandono della situazione da cui vieni che può essere di donna single di donna sposata di donna con compagno di non figli con tanti figli di poche responsabilità tante responsabilità pazzesca quindi tutto è nelle tue mani che si sposa con il rapporto tuo e leone che fuori che aspetta ti passi le giornate di però c'è il leone che mi aspetta fuori ma tra tre mesi faccio un altro controllo già tu sei sotto il leone mi viene espressione volgarissimo questa non la posso fare ma tu al leone i devi sputare in bocca capito del rete proprio prenderlo in giro ma con la convinzione che tu sei la punta della piramide con la certezza che tu sei la punta della piramide leone non c'è fondamentalmente leone non esiste è una creazione più tu ci credi al leone più lui esiste quindi più tu credi nella fiamma più intanto dimmi elena che cosa vedi mentre io parlo è più no no ma dopo no no adesso adesso sono si dimentica poi non fa c'entra con quello che mi hai detto prima di vedere con la signora noi tu credi nella fiamma più la fiamma si avvicina si crea si materializza più tu sai cosa devi fare anche conto quello che ha detto elena perché magari tutte le individero senti che va in perù e magari lì cavolo per dire e diciamo che l'azione hai sicuramente veloci la creazione della tua fiamma nel senso che aiuta a parte a materializzare e poi mentre materializzi ti rendi sempre più conto cosa vuoi cosa non vuoi quindi la creazione delle esperienze anche anche viaggiare cioè non è che deve essere posso andare con col primo che cap che passa ma nel senso proprio la l'esperienza nella vita continua esperienze diverse anche se sono piccole ma farle è proprio diciamo la via giusta per creare quello che si vuole perché siamo qua a giocare questo gioco e se rimane solo una cosa animica o teorica non si creerà mai siamo qui nella matrix e qua dobbiamo crearla è un passaggio obbligato ok nel cinema i figli gemelli etero zigotti maschio femmina il marito e la fiamma quello che viene stella fa tutto spiolone che è una idea in realtà in realtà quando entrata all'altra fiamma secondo me sono amici è messo in prima fila e il marito si è messo in fondo perché io li vedo connessi sti due in altre vite ente amici fratelli ma non si odiano gemelli non c'era l'altro non c'era in quella vita in martinica ma sono fratelli da gemelli fratelli si oggi è due medium stella ci li vedo simili in un'altra vita non sono e non è nata tanto comune sta cosa no no fatti sai che è per questo che allora è come se la fiamma fosse lui ma non è lui lui chi marito l'alto esatto il marito il marito perché in quella vita la erano gemelli allora qua c'è questa questa altra ps che era fratello gemello di suo marito in una vita allora come se è come se la ps di stella avesse riconosciuto una parte della sua fiamma in suo marito c'è un primo avvicinamento ma in realtà era per il ricordo di quella vita la dove erano gemelli ma la fiamma e l'altro fratello di quella del taramo ok nel cinema e prima fila passiamo i figli anche ok causa esoterica del fatto che stella se la intende più quegli uomini e meno con le donne ma questo non vale con i figli quindi se la intende più con la femmina che col maschio se la intende avete capito no sì allora d'accordo più sintonia più amici maschi che amiche femmine e con la figlia va più d'accordo con il figlio ci sono più motivi di contrasto sconto si diciamo che quello che vedo è che con le donne adulte è come se lei dovesse sempre per questa cosa che deve essere per sentirsi adeguata deve deve raggiungere la sua perfezione e quindi quello che lei mette un campo senza voler andare in contrasto con con l'altra donna ma mette in campo comunque quella che per lei in quel momento è la sua perfezione ed è come in eterico e come se lei spingesse quindi come se fosse troppa energia verso quella direzione ok quindi in eterico vedo l'altra donna che va sulla difensiva e quindi diciamo mette in atto l'altra donna mette in atto un meccanismo di difesa e quindi di muro diciamo no quindi non avviene una conversazione e un dialogo fluido c'è troppa spinta di di dimostrazione da parte di stella deve sentirsi perfetta per essere accettata in realtà mette in atto una cosa che poi fa al contrario e coi figli figli non sono adulti proprio chiaro e poi lì c'è appena riparto ritirei cresciuti lei si sente molto più a suo agio e tranquilla invece la ha bisogno proprio di essere di sentirsi adeguata e questo è il modo con cui lei agisce proprio una discesa che diventa le si impegna e si sforza di essere perfetta per i suoi parametri ma di là appare troppo troppo che spinge troppo e quindi le donne si si difendono tirandosi indietro ci sono delle vite che la legano questi due ragazzi si erano si sa che erano la sua ammesso papà nella vita della martinica con i sereni la vita serena lui il papà lei la mamma si lei nel lungo elenco di paesi in cui è stata del caribe ha sottolineato la martinica come un posto che l'è rimasto elencando posta se gli altri se si guardano per martinica sono molto simili santa lucia anche un po più molto vicine come isole poi ci sono delle differenze eppure la martinica le rimane se la ricordava se si si era proprio faticosa nel senso a livello fisico ma molto sereni molti uniti molto se sì perché non c'erano i supermercati insomma questi dovranno mettere pranzo ci sia tutto giorno riscando raccogliendo frutti se combattendo col serpentello con la puntura dell'insetto c'era la famiglia che dava la pomata e la puntura se ne passava bisognava cercare delle erbe per far passare che ne so la malattia e sì certo subito impegnativa a livello scolari non esistevano oggi una natura molto più aggressiva se vuoi anche molto più presente se direi tutto natura parte le capanne vedo capanne come case nel senso non era un posto ricco no insomma non è non c'è molto da fare abbiamo analizzato quello che stella ha detto la mano destra mano sinistra fomicole maledetto no sì 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 ma madre no 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 scegliete la vibrazione alto quanto è la vibrazione oggi adesso non oggi che siamo abbiamo visto tutto questo insomma stella è rimasta colpita da tanti fatti visti 185 miliardi in questo numero così così allora io vedevo mentre mentre guardavamo le cause esoteriche così vedevo proprio che lei era molto partecipe alla cosa e tutte le volte che trovavano il filo conduttore vedevo proprio la sua ps qua direi in questa zona ok che ogni volta è come se si apriva e l'energia si espandeva è presente come mi viene questa immagine un po così ma rende l'idea sai ghiacci istantanei sacchetti che devi dare il pugno e poi senti proprio che si diffonde il freddo e il ghiaccio in tutta la busta ecco era come se tutte note che che c'era il filo conduttore la sua ps facesse questo spasmo e tu si diffondeva tutto in tutti i suoi corpi cinque corpi c'è quella valore l'ha appena fatto quindi sì 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 adesso si sa di ad eterno in questo lei lo sa fare sì 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 vediamo che promette divette ovunque abbiamo un voto da 0 a 100 lei ne fa uno di che livello 100 il massimo anche se non esiste un massimo il massimo che abbiamo fatto finora 87 bene uno nel corpo fisico dove lo mette in cifra 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 no 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 li li metti sempre vedo adesso l'ha messo zona utero così perché è come se si sente un po in questo momento un po strano con la zona potrei dire che alla secondo me non è meno cosa ma come se lei avesse l'impressione che questa stranezza fosse la menopausa lei si sente un po strano vede magari non lo so mi viene da dire che ha visto tipo delle irregolarità oppure volta poi si amata ecco uno nel corpo emozionale e al centro proprio di cosa le emozioni dove risiedono quali emozioni sia positiva che negati nel senso c'è tutto uno strato sopra che è positivo e sotto negative devo dire che sono molto lievi quelle negative non ce ne sono tre o quattro ma sono fuori amole vediamole allora direi un po quest'ansia che è legata molto su sentirsi adeguata un po di confusione che è legata si è un po questa insicurezza tutto lieve un po sì un po di paura per i suoi figli che la porta appunto a essere sempre sicura di dove sono ok questo controllo di come sono basta queste tre cuoze uno qui nel corpo emozionale quindi uno nel corpo mentale se lo mette a neutralizzare lo diciamo l'ombra del potenziale impianto mentale e tirco e subliminale e che ricora messo qua e subliminale vabbè in mezzo molto bene nuova frequenza 385 miliardi tutto nelle mani di stella stella finita la sessione può guardare su internet e prendere un biglietto dei re opera ma ciu piccio per esempio però se con questa idea frequenza 429 degli altri non vuol dire che chiama ciu piccule cambia la vita o no che c'è la possibilità di fare quello che le pare esatto e fare quell'esperienza che magari può portarle qualcosa importante per lei non lo sappiamo ma poi è sempre un'esperienza per esempio ma sono servito un bel posto uno dei posti più strani al mondo va bene approfondiamo un attimo questa cosa dei servizi segreti che a me sinceramente non va essere servizi segreti chiamali che ma la signora se sì sai che l'ho vista stranamente come succede spesso ultimamente io di solito non sogno mai o se sogno 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 normale invece stanotte è arrivata un entità città eterica cui ho tagliato le gambe proprio tagliato le gambe l'ho appoggiato lì e poi l'ho portato dentro a un portale definitivo ma proprio stanotte quando tu hai sognato la signora e quindi è quell'energia lì e secondo universo secondo universo va bene alla signora mettiamo in bocca un grande ad eternum secondo la scala di prima non è anche a non è neanche a cento ma è a mille all'eterno è dentro la parola zitta tuoi servizi segreti io gli ad eterno ma sta in po molto attento se si rievanta corte ci scelta tutti i collegamenti generali poi diamo nell'eterno ma più informazione a tutti quelli che seguono quel gruppo se come andiamo in alto al grande ad eternum nel secondo universo che si clona in tanti ad eterno ma se segue tutte le entità del secondo universo tra cui quella che è venuta a romperti le scatole e ha fatti anche sorridere questa notte sono ad eternum gremlin secondo universo si moltiplicano ma neanche con contatto dell'acqua perché probabilmente lì l'acqua non c'è nemmeno ma ogni 5 secondi se ne forma uno nuovo e se ne va in giro impazzito a cercare qualcuno a cui attaccarsi c'è qualcosa che la signora vuole dire non poter dire niente sì vorrebbe dirlo col pensiero qualcosa a tutti i pensieri in cortocircuito esce fumo quindi bene 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 va bene chiudiamo la sessione di stella andiamo al cluster vediamo cosa c'è non hai idea di che cosa troveremo secondo me niente c'è 11 bene lo vediamo subito questo punto se quello lì e questo qua da qui è un progetto che vorrebbero fare con quell'impianto quello mentale sì come si chiama questo progetto e ha un nome questo progetto già vorrebbe averlo cannuccia diciano via come se le vorrebbero farla diventare una cannuccia immobile c'è tutto dalla testa via qui una detta anche belle cose sentito in cui una detta non mille che adesso lei sa fare perché rinnova tutti i suoi cinque nei cinque corpi da 86 col che era tutti a mille 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 e nel corpo fisico se ne mette uno anche in bocca quelle giungire da mille di quasi da mille ci costa qualcosa no lo dobbiamo fare sì ma chi ti credi di essere è ma le risorse sono limitate no non sono limitate assolutamente no che esagerato esageriamo e ma gli altri cosa rimane gli altri creino l'ha fatto c'è l'ha buttato prima il contratto non portare se 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 avatare sono sicuro curioso la riga una riga proprio se una ricca è avete hanno un da mille sembra che per lina perché per una mille c'è il piccolo magari esagerare non è che proprio sono quella idea no ok nuova frequenza 465 consapevolezza 213 ps 69 vitte 638 un cervello 10.1 potenziali capacità medianiche di stella allora vagamente come se lei potesse riavere quella quelle capacità medianiche che aveva sintero su macio piccio nel senso che attraverso come attraverso il meccanismo con cui lei vede può imparare a vedere il campo intorno ok quindi come si muovono le energie ok vedendo ritorno indietro lei vede il campo ok lo vede vede come si muovono e poi focalizza nella mente il spostamento del campo a seconda di cosa vuole creare e riesce con la mente la vista a modificare il campo quindi a creare le cose quindi spostarle o arrivare a questo utilizzando la vista del campo la visione del capo se lì sarebbe il cervello al 19 per cento lost e c'è ancora no lo sommano magico le cantate via sciomano macio piccio sì perché è quello che la collega questa capacità medianica ma di che non la recupera rimane martini casi esiste legata alla fiamma quindi se le dovesse trovare la fiamma quella può andare via perché era tutta la parte serena anche se la sua fiamma era tratta il gemello del marito che c'è anche quella lì anche questa vita serena è collegata a quell'aspetto di diciamo potrei dire all'amore incondizionato dell'attualità nell'uno quindi nella vita e martini che comunque anche legata ai suoi figli attuali ma la può ma questo questa cosa l'ha risolta diciamo sono le cose irrisolte che legano la vita se non è non mi serve più la butto mi fa schifo non è solo questo anche una vita bella come martinica si sia un qualche cosa che ancora serve per capire delle cose qui si è esatto esattamente si invece questi come molteplici la vita in martinica e risolta ai fini dei figli genitori all'epoca ma non è risolta i fini della fiamma si è ancora un punto di domanda mister punto di domanda a proposito cosa fanno nel cinema si picchiano feste no 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 marito falinchino come falinchino alla fiamma alla fiamma che è davanti in prima fila come per dire è chiaro che che sei tu e non io ok rimane perché può interessare a lui di possono interessarli degli spunti su quello che sta vedendo ma dice se non fosse per questo io potrei anche andare perché come se fosse chiuso il cerchio interico ok messaggio finale di stella se stessa fai azioni fai esperienze fai questo viene a dire fai continuo a creare tu ed eterno adesso puoi crearli molto più alti c'è imparato come si fa tu non darti i limiti gli dice che ha inventa i numeri altissimi e quello è e li sai fare ma fa esperienza proprio esperienza pocamente esperienza ragionamenti su cosa è economico conveniente in questo momento calcoli muoversi così no assolutamente no è proprio fare esperienza ok ci sono disincarnati delle tutte le generazioni di stella che vogliono aggiungersi a un portale aurea si ce ne sono 21 fortuna che li ha chiamati tutti via ciao ciao con la manina i ritardatari quelli che non hanno sentito sei capace la signora di ieri è la in fondo con numerino scritto 9 ma che bello se si è una stella la signora la cliente di ieri aveva perso alla mattina una cugina una persona molto anziana la mattina ne abbiamo fatto pomeriggio e l'abbiamo chiamata come disincarnate insieme ad altri due non era pronta allora abbiamo dato il numerino e numerini che suonano no abbiamo chiesto tra quanto vieni tra quanti giorni quante sessioni vieni tra dieci intanto guardo quindi lei oggi ha visto che la signora 9 ma la vedi più ancora agiata se gli è tutto chiaro è proprio la necessità di continuare a seguire ancora per appunto questi due giorni ma peraltro il suo funerale sarà penso domani oggi o domani si pensano quindi comunque collegata a questo adesso se c'è ancora il pezzo va bene abbiamo finito ciao